Tre spettacoli teatrali per la stagione invernale al Teatro Volta, che genere di spettacoli vedremo? Allora, anche il teatro si iscrive nella poetica di Antonio Catalano e della Casa degli Alfieri, cioè la poetica della fragilità, della meraviglia, dell'emozionarsi insieme, soprattutto per i prodigi naturali che ci circondano e che non sempre siamo in grado di scoprire. Sono tre spettacoli diversi, perché uno è più narrazione, uno è più circoteatro, uno è più spettacolo con vari personaggi, però tutti hanno come filo conduttore questa forte componente poetica, direi. Insomma, per impegnare e occupare le vacanze natalizie, perché rimane in città, e trascorrere a teatro tutta la famiglia un bel momento, un'ora insieme, più naturalmente il tempo per festeggiare e mangiare ancora insieme una fetta di panettone, quella non mancherà. Al cinema insieme, perché avete scelto questo titolo e che genere di film vedremo? Allora, al cinema insieme, perché insieme sarà proprio la parola, insomma, il filo guida di tutta la rassegna. Sono invitati i bambini con le loro famiglie e quello a cui teniamo è proprio quello di trasmettere un'esperienza da condividere. Per cui si va al cinema per condividere un'esperienza. Possiamo vedere film a casa, possiamo vedere film sul telefonino, ma ovviamente quello che si può vivere all'interno di una zona cinematografica è qualcosa di molto diverso. Ogni film è accompagnato da un successivo momento invece di laboratorio creativo, in cui i bambini saranno invitati a costruire con le proprie mani un piccolo manufatto legato appunto al film appena visto, che poi porteranno a casa. Quest'anno la rassegna cinematografica e teatrale al Volta è stato definito un punto di svolta? Sicuramente un punto di svolta perché quest'anno siamo arrivati un po' alla maturazione di un progetto che abbiamo perseguito con grande tenacia per dire almeno tre anni. Quest'anno la rassegna teatrale è già cominciata, devo dire, con un grande seguito, un grande successo, ci ha fatto piacere vedere così tanti pavesi, ma anche non solo pavesi venire ai nostri spettacoli, ma è anche ormai riconosciuto come un luogo in cui organizzare eventi, eventi che creino discussione e riflessioni in città, non ultimo la giornata della fragilità che si è svolta sabato scorso. E adesso partiamo con invece la nostra attività più legata al mondo dei bambini e delle famiglie, quindi da dicembre parte la rassegna cinematografica, quindi tutte le domeniche al cinema, sempre con un laboratorio che segue il film, proprio con l'idea che i bambini possano rivivere un po' l'esperienza che hanno visto al cinema e soprattutto che il cineteatro sia anche un luogo in cui si può giocare, ci si può incontrare. E poi per le vacanze di Natale prevediamo tre spettacoli teatrali che si svolgeranno appunto proprio durante le vacanze per tutte le famiglie che rimangono a Pavia. Anche in questo caso ci piace sottolineare come i prezzi siano veramente accessibili, quindi due euro per i bambini in ingresso al cinema, cinque euro per il teatro, proprio perché ci piacerebbe che le famiglie venissero assieme, cioè che riscoprissero la bellezza di venire al cinema, venire al teatro, stare insieme anche in questo luogo che per noi sta veramente rinascendo.